Consiglio comunale al vetriolo a Palazzo di Città, Gela. Sarebbe proprio il caso di dire chi di social ferisce, di social perisce. Pronte ed immediata arriva infatti in aula la risposta secca all'assessore Eugenio Catania, che aveva scritto e pubblicato un post su Facebook, giudicato poi da componenti del civico consesso fortemente diffamatorio. Andando al nocciolo della questione, è stata chiesta al sindaco Domenico Messinese dal consigliere comunale Salvatore Gallo, supportato dai colleghi Casano, Giudice e Biundo, l'immediata rimozione dell'assessore Eugenio Catania. Lo stesso consigliere comunale del Partito Democratico Gallo ha riletto in aula il post contro il quale è stato puntato l'indice e nel quale Catania si lascia andare a pesanti insinuazioni, definendo alcuni consiglieri comunali e alcuni cittadini, amici di, ex amici di, ex raccomandati da, ex lecchini di, eccetera, eccetera. L'esponente della giunta messinese ha attaccato con il suo post consiglieri che sarebbero capaci di dare solidarietà solo a VIP e sindaci di altre città e inoltre l'amministratore affronta il tema delle competenze, additando consiglieri che conseguono la laurea triennale dopo 15 anni e non risparmia commenti nemmeno sugli immobili comunali assegnati ad associazioni che le avrebbero trasformati in BNB. Insomma, accuse di insinuazioni che hanno urtato gran parte dei consiglieri che hanno pronunciato la volontà di presentare una mozione di sfiducia nella prossima seduta di consiglio comunale, oltre che l'intenzione di valutare se sussistono gli estremi della querela. Questo boy scout, ha detto Casano, dovrebbe essere riportato all'ordine dal sindaco che lo ha scelto. Il sindaco Domenico Messinese si è riservato di approfondire la vicenda e dunque non si è pronunciato. Adesso si attende che il primo cittadino sciolga la stessa riserva. Che cosa l'ha indignata particolarmente fino al punto da chiedere al sindaco Domenico Messinese che venga appunto rimosso? Io parto dal presupposto che il rispetto istituzionale deve essere da parte dell'amministrazione nei confronti del consiglio, così come il consiglio chiaramente deve avere un rispetto istituzionale nei confronti dell'amministrazione. Ieri ho riletto il post in aula perché all'apertura del dibattito, dopo che è intervenuto il sindaco, il sindaco ha detto che non conosceva il testo e quindi io l'ho riletto integralmente così come era stato postato. Ma ripeto, nulla di personale nei confronti di nessuno. Non sono stato io come poteva essere anche un altro collega a leggere quello che è stato scritto. Il problema è un altro. Il problema è che quando si ricopre una carica istituzionale, che sia quella di consigliere comunale o di amministratore, bisogna innanzitutto avere rispetto istituzionale e bisogna dare serenità e tranquillità ai cittadini, quindi a chi ci ha votato, a chi ha avuto fiducia in noi. Questo è quello che abbiamo fatto come consiglio comunale. Abbiamo chiesto l'inserimento del punto all'ordine del giorno per poterne discutere, perché ieri non era la sede idonea. Spero che l'assessore Catania venga in aula intanto a chiedere scusa per le offese mosse nei confronti del consiglio comunale. È stato un coro unanime ieri. Tra l'altro il documento che abbiamo presentato alla presidenza del consiglio mi pare che porti 27 firme, quindi l'intero consiglio comunale. Siete pronti alla sfiducia nei confronti dell'assessore? Ma bisogna vedere che cosa ci viene a relazionare in aula, perché magari se si scusasse, se riuscisse a dire che ha scritto quello che non pensava, noi siamo in aula e ascolteremo quello che lui ci dice e di conseguenza noi agiremo come meglio crediamo.